Il 68 è luto. E l'utopia è l'utopia il 68. Ora vediamo poi come. Un'utopia molto concreta. L'utopia non è semplicemente l'opposto del realismo. L'utopia è una cosa più precisa. Ora ne parliamo. Prima vi avverto che non mi dovete stare molto a sentire perché sono faziosissimo. Per me il 68 è la cosa più importante avvenuta negli ultimi 50 anni. Sono piuttosto fazioso. Prima di salire chiacchierando con Lucrezia dicevo provate un attimo a immaginare che cosa sarebbe non l'Italia, il mondo, se non ci fosse stato il 68. Io non lo voglio neanche immaginare. Poi dopo vediamo. Ci sono le critiche, ci sono i problemi, va visto con freddezza. Però è stato un fatto davvero straordinario. Per me il 68 è l'utopia. E per l'utopia intendo una cosa molto seria, forte, strutturata. L'utopia non è la fuga dalla realtà. Non è un tentativo di sostituire la produzione, la produzione di idee, la politica, la lotta con un sogno, chiamandosi da parte, andando a immagini. No, l'utopia è una cosa molto più forte. La parola l'ha inventato un grandissimo uomo politico inglese, Tommaso Moro, lo sapete, nei primi anni del 1500. Utopia vuol dire non luogo. Di per sé è quasi un ossimoro. Così come è un ossimoro il titolo di questo incontro, Vietato Vietare, è un ossimoro. Vietato Vietare è un'utopia. E Vietato Vietare è stata l'utopia fondamentale intorno alla quale è nato e si è costruito e si è realizzato il 68. Vietato Vietare non era uno dei tanti slogan. Era la sostanza perché racchiudeva in queste due parole la critica essenziale. Cioè la critica e la proposta di demolizione della gerarchia. In questo si può riassumere tutto. Poi noi possiamo spaziare per vedere le varie fasi del 68, le varie idee che ha portato sul piano delle libertà, sul piano dell'uguaglianza, sul piano dei rapporti fra maschi e femmine, sul piano familiare, sul piano economico. Però l'essenza di quel movimento, che fu un movimento planetario, è la contestazione della gerarchia. E quindi del potere, ma non solo del potere. Perché nella gerarchia non c'è solo la struttura nella quale si insedia il potere, ma nella gerarchia c'è l'organizzazione, ci sono i rapporti personali, ci sono i rapporti collettivi, nella gerarchia c'è la famiglia, c'è la scuola, c'è la religione. Tutto questo veniva contestato dal 68. E non veniva contestato con un urlo. Io non ho mai visto il 68 come una rivolta. Il 68 non è stata una rivolta, anche se poi ci sono tante rivolte dentro al 68, ma è stata una proposta di rivoluzione. È stata un'idea di rivoluzione. Brevissima. Il 68 è brevissimo. Dura pochi mesi. Il 68 è mondiale, ma è soprattutto un fenomeno occidentale. Eppure se dovessimo stabilire due date, io direi due date che riguardano la storia dei paesi dell'Est, direi il 5 gennaio, cioè pochissimi giorni dopo l'inizio dell'anno, quando in Cecoslovacchia, un paese non importantissimo nella storia d'Europa, in Cecoslovacchia un giovane dirigente comunista, poco più che quarantenne, che si chiamava Alexander Dubcek, rovescia la vecchia gerarchia comunista guidata da un gerarca che si chiamava Novotny e prende la guida del partito e stabilisce che proverà a riformare il socialismo. Proverà a fare una cosa che nessuno mai ha tentato di fare, a riformare il socialismo e soprattutto a mettere dentro al socialismo e dentro all'organizzazione statuale socialista la parola e il concetto di libertà e di partecipazione, ma essenzialmente di libertà. C'è una parola che dal 1917, da quando il comunista aveva iniziato la sua realizzazione, era scomparsa, anzi era considerata il nemico. Dubcek pensa di poterlo fare. E io credo che il 68 muoia il 20 agosto, pochi mesi, otto mesi dopo la sua nascita, con l'ingresso dei carri armati a Praga. L'arresto di Dubcek viene portato prima a Mosca, poi riportato in Cecoslovacchia, deposto, finisce il sogno della riforma del socialismo. Queste due date prendono tutto, perché dentro queste due date poi avvengono tante altre cose. Il 68 è un fenomeno che nasce dal basso, nasce dal basso, non è in nessun modo guidato dalle classi dirigenti. Tutti i capi, i leader che guidano questo movimento, perché questo movimento ha delle guide, sono dei ragazzi in tutto il mondo, negli Stati Uniti d'America, in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, in Italia, anche nei paesi socialisti e anche nei paesi dove c'erano le dittature di destra, in Spagna, in Portogallo, in Grecia, in America Latina. È sempre un fenomeno che nasce dal basso. I leader del 68 sono quasi sempre ragazzi, oggi neanche riusciamo a immaginarcelo, spesso sono ragazzi che hanno 19 anni, 20 anni, 21 anni, ma non sono dei ragazzini che improvvisamente perdono la trebisonda, sono dei leader, dei leader politici che parlano di politica, che hanno studiato. Qualcuno di loro è allievo di Marcuse, qualcuno di loro è allievo di Guido Calogero, qualcuno di loro ha studiato filosofia in Francia. e hanno un'idea che è quella del rovesciamento delle gerarchie e che si espande in tutti i campi della vita civile. Il 68 nasce dal basso, poi riguarda le classi dirigenti, ma arrivano dopo. Dopo arrivano gli intellettuali, dopo arrivano i giornali, dopo arrivano le organizzazioni politiche, dopo arrivano anche dei pezzi dell'establishment, ma parte dal basso. Negli Stati Uniti d'America parte da un lato con il movimento di rivolta nei ghetti, dei neri, sia al nord, dove era più violento, guidato da Malcolm X nei primi anni 60, poi Malcolm X viene ucciso nel 65, sia al sud con Luther King, che è un grande leader del 68, del 68 che è non violenza, in tutta quella fase, il 68 è non violenza. E sul lato invece dei giovani studenti bianchi, il capo può essere considerato forse Abbie Hoffman, che era quello che fondò il partito degli Ippi, gli Ippi erano un partito, ed era un partito che fece tante cose, che arrivò a contestare la convention democratica, appunto del 68, a Chicago. Nasce dal basso, poi però succede che un pezzo dell'establishment si pone il problema, che facciamo? E qui è una cosa seria, non è che hanno fatto una manifestazione, hanno buttato una bottiglia Molotov, hanno fatto un po' di casino alla Sorbona, hanno occupato l'università, no, c'è giorno dopo giorno addirittura, neanche settimana dopo settimana, una parte fondamentale, e la più avanzata, e la più moderna, la più colta, la più forte di una generazione, che è la generazione nata subito dopo la guerra, quella che va dal 45 al 55, e che sta ponendo questioni che paralizzano l'organizzazione della società, ovunque, persino dentro le famiglie, dentro le famiglie, dentro le scuole medie, dentro i ginnasi, viene messa ovunque in discussione l'autorità, e l'organizzazione politica e statale, in Occidente e in Oriente, non conosceva questa modalità, non riesce a capire come si può fare ad accettare la messa in discussione dell'autorità, allora inizia a pensare a cosa si può fare, e allora avviene pure l'alto, non c'è più il 68 dal basso, ma c'è anche quello dall'alto, e i due più importanti leader politici che guidano il 68 dall'alto sono, ve lo dicevo prima, Alexander Dubček all'est e all'ovest Bob Kennedy. Nel febbraio del 68 Bob Kennedy ha una svolta, Kennedy era stato un uomo di mano, di suo fratello, del potere, il kenedismo di John Kennedy è stato un importante tentativo di riforma, ma era tutto dentro la storia del Partito Democratico, era dentro il rooseveltismo, c'era uno scatto rispetto agli otto anni precedenti dove erano governati i democratici con Eisenhower, ma non era sicuramente rivoluzionario. Bob Kennedy era un uomo di questo establishment, aveva persino partecipato alla commissione McCartney negli anni 50. nel febbraio del 68 cambia e crea anche lui l'utopia. Dubček e Kennedy sono due uomini politici importanti che danno invece una leadership che portano un pezzo dell'establishment a parlare col 68 sempre riferendosi a quello che dicevo all'inizio, l'utopia, l'utopia di Dubček di cui lui è convinto è che si possa portare la libertà dentro al socialismo. L'utopia di Kennedy, di Bob Kennedy, è che si possa mantenere il capitalismo riducendo la sua smania di profitto e sostituendola con un grado altissimo di socialità. Kennedy ha in mente l'abolizione della povertà, naturalmente la fine della pimpuera del Viettem, è una riforma profondissima che trovi una via intermedia fra il capitalismo e il socialismo. Sono due tentativi speculari e clamorosi pieni di utopia, ma non è un'utopia nel senso che si dice vabbè, lasciamo stare, facciamo dei sogni, acchiappiamo le nuvole. Utopia nel senso che c'è un disegno fortissimo, chiamiamolo di rivoluzione, chiamiamolo di riforma, ma di trasformazione totale del sistema politico. Il tentativo di Kennedy dura meno di quello di Dubček. Dubček va da gennaio ad agosto, Kennedy va da febbraio a giugno. Il 5 giugno viene ucciso. Due mesi prima era stato ucciso Luther King, nell'aprile, mi pare, del 1968. Dura poco il 1968 e viene abbattuto con la violenza. Viene abbattuto con la violenza. Succede ovunque questo. Succede anche in Italia, un po' dopo, con l'inizio delle stragi, l'anno dopo, nel 69. Succede negli Stati Uniti d'America, con l'uccisione di Kennedy, di Luther King, con un numero enorme di omicidi nei ghetti. Succede in Russia, in Cecoslovacchia, con l'ingresso dei carri armati sovietici. Succede in Spagna, con la Garrota. Succede in Germania, dove sparano al leader del movimento strumentesco, che si chiamava Rudi Duce, che gli sparano in testa, sempre in aprile. Il 1968 viene abbattuto con la violenza. Quel pezzo di establishment, che non era piccolissimo, che aveva pensato che si potesse dialogare, a un certo momento viene spazzato via. La borghesia in Occidente, le classi dirigenti comuniste in Oriente, decidono che bisogna spazzarlo via, che non è possibile il dialogo. I dialoganti perdono, perde Bob Kennedy, perde persino la sinistra repubblicana negli Stati Uniti, perde. Perdono i socialisti francesi, perdono tutti. Vengono esclusa l'ipotesi del dialogo, e viene stroncato con la violenza. E a quel punto succede qualcosa di tremendo. Il 68 si suicida. Il 68, è stato detto a tre volte, perde la sua innocenza. e fa la scelta suicida, quella di scendere nel campo di chi lo sta attaccando. Fa la scelta violenta. In gran parte fa la scelta violenta. E fa un'altra scelta, quella della rinuncia all'utopia. Qui finisce l'utopia. Finisce con l'attacco frontale, militare, di fronte al quale il 68 e quella generazione chiudono. Vietato o vietare, se ci pensate, non solo è un ossimoro, ma è una clamorosa contraddizione. È una frase composta da un participio e da un infinito. E il participio è la parte realistica. L'infinito è la parte poetica, la parte utopica. Vietato o vietare c'è dentro la parola vietato. E vince vietato. Vince il participio. L'infinito scompare. Il vietare scompare. Il 68 libertario non c'è più. Non ha più espressione, non ha più legami, non ha più capacità di incidere. E muore. Però il 68 non muore mai. Ecco, questa è la cosa che volevo provare a dire. Muore, non c'è più. Finisce. Il 1968 finisce ad agosto. Però il 68, l'utopia, che è fatta di idee, è fatta di speranze, ma è fatta di teoria politica, è fatta di filosofia, è fatta di pensiero, è fatta di elaborazione. È piena di idee. Queste idee muoiono molto più difficilmente. Si frammentano, si spezzetano, ma restano. E restano per tanti anni. Restano per decenni. incidono nella politica mondiale, è moltissimo, incidono nella destra addirittura. La destra, non solo in Italia, risente del 68. Richard Nixon, che è quello che schiaccia il 68, vincendo le elezioni presidenziali americane a novembre. Richard Nixon è quello che ha fatto le leggi sulle cosiddette affirmative action, cioè le leggi a favore dei neri. Entra dappertutto, entra a destra, entra fra i conservatori. Agnelli è il capo della Confindustria che qualche anno dopo farà l'accordo sulla scala mobile, che è un accordo fondamentalmente ispirato a un'idea egualitaria della società. Prosegue, prosegue, resiste a Nixon, resiste anche al neoliberismo, resiste anche a Reagan. Molte idee continuano a vivere, non solo idee politiche, ma la cultura del 68, i rapporti umani, la liberazione, la liberazione che porta il 68 continua a vivere, continua a vivere per anni. Quando è che perde? Io credo che perde in questi anni qui, perde nel secondo decennio, nel 2000, quando nel mondo si affaccia questo animale politico selvaggio che si chiama populismo, che è il contrario del 68, che il 5 novembre nel 2016 conquista la presidenza degli Stati Uniti d'America, esattamente 48 anni dopo il 5 novembre del 1968, quando vince Nixon. Lì si chiude. Da quel momento il 68 non esiste più. che si chiama populismo, c'erano che si chiama populismo, che si chiama populismo, perché mai non esiste più. Grazie a tutti.